Il giocatore che è stato senza dubbio il migliore della nostra rappresentativa nei due incontri che hanno prissa l'ambasciatore dell'Unione. Ecco Mazzola, prosegue desisti, Mazzola. La formazione, la squadra italiana, vi ripeto, gioca il primo tempo alla destra dei vostri teleschermi con Zoff, numero 22, Burni, Mazzola, Domendini. Pallo l'avversario, gioco pericoloso ma l'azione prosegue per la regola del vantaggio. Riva. Pavlocic. È stato Mazzola a compiere l'azione difensiva. Facchetti, Mazzola, Facchetti. Mazzola. Messo a terra da Pavlocic, calcio di punizione, piuttosto arretrato, allontanatore a Mazzola. Domendini. Bello il passaggio smarcante per Rosato. Mazzola, Riva. Riva. Mazzola, Anastasi. Desisti. Mazzola lo ha contrato. Mazzola lo ha contrastato, prosegue a Cimo Vizzurri. L'ha battuto Salvatore per Mazzola, che sta giocando in un'inietica posizione di centrocampista. Mazzola, deviazione di Anastasi, è in ritardo Riva, ai centrocampisti Desisti e Rosato. È stato proprio... Il passaggio ad Anastasi. Dove la palla, Mazzola, lancio per Anastasi. Allontana al volo Paunovic. Ma Mazzola rimette ancora in azione Desisti. Ed è Riva che ha liberato. Poi scatta Mazzola. Rimette in avanti Osic. Mazzola. 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 Riva. Cheve le congratulazioni dei suoi. Colpo di testa di Riva alla mezz'ora. Mancato di un soffio il raddoppio per la nostra squadra. Domenghini. Parata non difficile del portiere. Rinvia poi il portiere su Anastasi. Mazzola. Mazzola. Riva. Spettacoloso che va via. Rivediamo il colpo di testa di Riva. E guardate che splendida parata del portiere Pantelic che riceve le congratulazioni dei suoi. Ha battuto Mazzola. Domenchini. Il rinvio è... Mazzola. 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 Salvatore. Iva. Ma non Burnic che gli toglie la paura. Mazzola. Domenchini. Mazzola. Musemic. Allontanato Guarneri. Poi Facchetti. Allontana sul Mazzola. Mazzola. Burgnic. Musemic. Allontanato Guarneri. Poi Mazzola sta per scadere il primo tempo. Mazzola. Facchetti. A Domenchini. A Domenchini. A Mazzola. Mazzola. Cross di Mazzola. Colpiti. I giocatori hanno già ripreso posto ed è iniziato il... Guarneri. Guarneri. La tattica dei nostri azzurri è diversa. Ora mirano a controllare un prevedibile ritorno degli Jugoslavi che non hanno più nulla da perdere. Mazzola. Mazzola. Non giunge la palla arriva. Mazzola. Roversciata di... Mazzola. Rosato Mazzola. Su Mazzola libera... Colpo di testa di Riva. Domenchini. Mazzola. Salvadore. Burgnic. Mazzola. Domenchini senza più ricorrere a un dispendio di energie. Gli azzurri controllano la gara. Mazzola. Ancora un colpo di testa di Mazzola. La palla giunge a Musemic. Un colpo di testa di Riva. Mazzola. 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 Punizione in nostro favore già battuta. Il secondo tempo è molto tranquillo. Vedete il gioco abbastanza noioso. I nostri si limitano a controllare la Jugoslavia che ha pochissime forze da spendere. Il punteggio è di 2-0 in nostro favore. E' il ventunesimo della ripresa. Mazzola. Mazzola. Cross di Mazzola. Allontanato Paunovic. Guarneri. Anastasi. Domenghini. Mazzola. Domenghini. Portiere che perde la palla. Riva. Anastasi. Mazzola. Anastasi. Domenghini. Desisti. Mazzola. Ancora un passaggio per Riva. Esce per portiere. Mazzola. Desisti. Mazzola. Desisti. Mazzola. Passaggio indietro di Faslacic. Raggiunge la palla. Facchetti. Burnic a Mazzola. Applausi per il dribbling di Mazzola. Rinvio degli Slavi. Palla ancora Mazzola sul tocco di Burnic. Anastasi. Mazzola si inserisce ancora bene fra due avversari. Mazzola. Ormai nessuno degli azzurri mantiene il posto originale. L'Olimpico si è già acceso di migliaia di fiaccole. B PROMBI. Giacomo. A stretta.